Dopo Trento, ora un nuovo accordo che la Camera di Commercio di Cosenza ha siglato con i colleghi di Perugia, ancora con l'obiettivo di favorire l'incontro tra imprese per promuovere e valorizzare i prodotti. Dunque, l'ente camerale Bruzio prosegue il suo percorso a sostegno delle imprese e lo fa insieme ad un territorio come quello perugino, da sempre molto legato alla Calabria. Ci sono dei punti di contatto e di avvicinamento che sono rappresentati dalle dimensioni geografiche del territorio, dal numero di abitanti e dal fatto che le nostre Camere e il numero di imprese iscritte alla Camera di Perugia sono pressoché analoghe al numero delle imprese iscritte alla Camera di Cosenza. Ma poi chi è che semplifica e che accorcia le distanze? È il rapporto umano, è il rapporto tra le persone. Quindi con Klaus Algeri, il vostro presidente della Camera di Commercio di Cosenza, mi lega oltre che un rapporto di stima anche un rapporto d'affetto, perché c'è una colonia di calabresi e in particolar modo cosentina che è presente in maniera consistente nella nostra città ma che ha e ricopre i ruoli estremamente importanti sia nel campo medico, sia nel campo della magistratura, sia nel campo naturalmente degli uffici pubblici e non solo, anche naturalmente nelle iniziative private. Per cui c'è questo stretto legame e molte famiglie sono costituite da uomini o donne calabresi che hanno sposato, diciamo, donne e uomini, volevo dire Umbri. E questo chiaramente crea questo rapporto e questo interscambio. Oggi si firma il protocollo per poi fare delle azioni che saranno stabilite insieme e a questo punto l'abbiamo anche allargato. Quindi ci saranno incontri con l'università, ci saranno incontri con i due territori, ci saranno incontri con i vari comuni, ci saranno incontri con il mercato di commercio. C'è lo scambio che in realtà noi dobbiamo fare. Quindi oggi firmiamo il protocollo, poi da lì con i tecnici, i segretari generali che ringrazio tutte e due, di Perugia e di Cosenza, faranno il loro lavoro.